Cari amiche e cari amici, buongiorno e bentornati sul canale. Continuiamo a parlare del giallo di Via del Ciclamino Rimini. Ieri, nella puntata di quarto grado, nello spazio dedicato al caso di Pierina Paganelli, è successo di tutto. In studio c'era presente Manuela Bianchi, il suo consulente dottor Davide Barzan, in collegamento da Roma la dottoressa Bruzzone e durante la trasmissione improvvisamente compare in collegamento da Rimini Valeria che ha preso, si è vestita, è scesa giù sotto il palazzo in zona farmacia, quella farmacia ormai è diventata famosa, con l'inviato di quarto grado. Si inizia a parlare di Pierina partendo da un servizio dove ci si pone una domanda ma è veramente Luis da Silva, l'assassino? Inizia il servizio spiegando cosa abbia portato la procura a credere che l'uomo che passa sotto la Camp 3 della farmacia alle 22.17 in via del Ciclamino sia effettivamente Luis da Silva. Oltre a far vedere questo video che conosciamo benissimo, vengono riproposte altre situazioni dove il senegalese passeggia ed effettivamente muove questo braccio in un modo particolare. Devo dire la verità, a me ha messo in difficoltà perché io guardando la prima volta questo video poi l'ho rivisto più volte poteva portarmi a pensare che poteva essere sia Luis che Loris o addirittura questo condomino che anche lui abita lì vicino a Manuela. Sono convinto che comunque chi viene ripreso alle 22.17 che è di rientro verso il condominio non può essere l'assassino. È passato troppo poco tempo dall'omicidio. In studio si comincia a discutere anche sull'eventuale passaggio di questo condomino che pochi minuti prima si trovava al bar e poi tornando a casa avrebbe percorso quella strada per andare in via del ciclamino al 29. Dopo aver visto le interviste fatte a questo uomo in presenza anche della moglie che confermerebbe che si trattasse di lui anche perché porta gli occhiali e nel filmato sembra che la persona che passi sotto la telecamera l'indossasse una maglietta con la scritta dietro. Lui addirittura associa a quella cosa strana che abbiamo visto di colore bianco a una borsa termica che si portava al lavoro tutto confermato anche dalla moglie che aggiunge addirittura che lo riconoscerebbe nella camminata. Ma allora, care amiche e cari amici è Luis? È il condomino? O è qualcun altro? Nel secondo blocco ci hanno fatto vedere per la prima volta le fotografie di Luis con Manuela nei loro momenti di felicità, d'amore fotografie che erano contenute nel cellulare di Luis queste sono dentro il faldone della procura. Dopo addirittura hanno fatto vedere diverse chat tra la stessa Manuela e il senegalese dove veramente ci sono scritte d'amore dove uno dice ti amo e l'altra anch'io e in più dopo Manuela scrive anche a Luis quei momenti di difficoltà nei confronti del marito Giuliano e della sua famiglia. Lo stesso Luis le risponderà dicendole che non la meritano in poche parole di farsi forza che quelle persone sono proprio brutte. Arrivando a far vedere gli ultimi messaggi dove addirittura Luis scrive come se fosse in protezione di Manuela dove quasi parere mio è come se le volesse risolvere un grosso problema. Una volta ancora dopo il filmato si ritorna in studio e cominciano a interagire Manuela e Valeria. Al momento sembra partire tranquilla la discussione fino a che veramente si accende. Io ho notato una cosa però che prima che uscisse il discorso del tradimento ho potuto notare che queste due donne veramente prima erano unitissime. me lo conferma il fatto che si è intuito benissimo che tra loro esistono tanti segreti molte confidenze ma serie. Ci sono state anche scambi di battute secondo me molto pesanti anche tra la dottoressa Roberta Bruzzone e il consulente di Manuela dottor Davide Barzan dove addirittura la criminologa dice a Barzan che è un ventriloco che lui dovrebbe andare al circo e a far cosa lo fa intendere mentre lo stesso dottor Barzan anche lui contraccambia nei confronti della dottoressa in collegamento da Roma ribadendo anche lui a lei di non essere al circo. Si conclude lo spazio dedicato a Pierina Paganelli parlando del DNA. La presentatrice Alessandra Viero è lì con il generale Garofano. La presentatrice appunto comincia a parlare dicendo che da fonti sicure sanno che non c'è tanto DNA per poter comparare con l'UIS lo stesso DNA e non solo ad oggi non è comparabile con nessuno ma interviene il generale dicendo che quello che diceva la presentatrice non era corretto. Secondo lui che è il consulente di parte di Emanuela Bianchi presente a Roma durante questi test invece dice che esistono tracce ematiche di donne tracce ematiche mischiate donna uomo e beh quello che già sappiamo di uomo. Io ho voluto solo semplicemente fare una sintesi perché veramente è stato lungo il tutto. vi consiglio di andare a rivedere la puntata. Ora care amiche e cari amici vi aspetto come sempre nei commenti perché c'è tanto da dire tanto da confrontarci voglio sapere i vostri pensieri. Ora salutandovi vi mando un grossissimo abbraccio e vi auguro una buona giornata. A presto A presto A presto